Siamo con le tre ragazze della segreteria di questa Paris Cup 2014, una competizione. Innanzitutto partiamo da te, Emanuela, se non sbaglio. Diciamo di che cosa vi occupate e come è nato questo tipo di progetto? Allora, noi siamo, come hai detto appunto tu, la segreteria amministrativa, quindi ci occupiamo di organizzare quelle che sono le questioni un po' burocratiche e organizzative della Paris. Quindi ci occupiamo dell'iscrizione a questo evento. L'iscrizione che comprende appunto tutte le parrocchie. Per ogni parrocchia abbiamo un responsabile che per noi è un referente di quelli che sono i ragazzi che poi parteciperanno alle tre competizioni. Quindi questi ragazzi oggi appunto era il termine dell'iscrizione, ci hanno consegnato delle liste con tutti i nominativi. Chiaramente a livello burocratico i nominativi sono seguiti da dei documenti, quindi documenti di identità o anche dalle autorizzazioni per chi non è maggiorenne dei propri genitori. Con allegato un certificato medico sportivo perché per legge ogni competizione sportiva deve avere un certificato medico riconosciuto e rilasciato da un medico sportivo che appunto garantisca la perfetta salute, il stato di forma fisica del ragazzo. E così quindi raccogliamo tutte queste che sono tutte per noi le referenze legali dell'evento e anche una quota di iscrizione che è di 6 euro che a noi va a coprire un'assicurazione chiaramente per la giornata. Abbiamo raccolto parecchie iscrizioni, siamo contenti, siamo quasi 20 parrocchie partecipanti e speriamo bene. Invece con te Enrica tu dai una mano naturalmente per l'organizzazione di questo evento e con che tipo di spirito affronti questo tipo di esperienza e soprattutto che cosa ti aspetti? Lo spirito è quello di una grande disponibilità perché anche per fare le chiamate, mandare le mail ma anche vederci tra di noi per le riunioni comunque ci vuole una disponibilità anche a collaborare tra di noi e anche semplicemente nel contattare tutti i ragazzi responsabili delle parrocchie. E mi aspetto ecco una grande partecipazione anche dall'altra parte dai ragazzi quindi che questo evento della Parice si possa allargare sempre più e diciamo arrivare a più persone possibili per rendere questa giornata di festa una festa appunto che coinvolga tutti il più possibile. C'è la parte sicuramente organizzativa, c'è anche la parte competitiva. Affrontiamo invece con te questo argomento, vogliamo dire tu hai anche partecipato personalmente a questo evento o hai fatto soltanto parte dell'organizzazione? Sì, ho fatto parte dell'organizzazione dallo scorso anno, quindi questo è il secondo anno e ero appunto in segreteria con Manuela Enrica e altri ragazzi però appunto ho osservato anche le competizioni, le gare, mi è piaciuto proprio questo spirito di comunione e comunque nel competere in una gara che vede al centro della giornata appunto lo stare insieme e quindi condividere appunto una giornata insieme. La domanda, l'ultima domanda che rivolgo a Manuela io ero curioso di sapere in quanto tempo si organizza un evento di questo tipo quando nasce dal punto di vista, dal punto temporale? Una bella domanda. Ogni anno ci prefiggiamo di iniziarlo sempre prima perché ci vuole tempo per organizzare il tutto. Diciamo che noi è da gennaio, dicembre e gennaio che iniziamo a lavorare per questa quarta edizione. I tempi sono lunghi ma ce ne servirebbero sempre di più però ce la stiamo cavando bene ecco perché dietro c'è un lavoro appunto di invito alle parrocchie quindi a questi referenti, ai sacerdoti che noi teniamo sempre in prima linea e poi anche le questioni della stampa delle locandine, la stampa delle brochure, la stampa dei regolamenti insomma una volta a settimana per 5-6 mesi ci siamo incontrati soprattutto la domenica. Passiamo alle domeniche pomeriggio insieme. Bene, con le ragazze della segreteria amministrativa è tutto per questa giornata di presentazione della Paris Cup 2014 vi diamo appuntamento al 6 aprile alla chiesa di San Luca.